I bianconeri cercano lo slancio decisivo verso lo scudetto mentre i rossoneri vogliono continuare la rimonta e la rincorsa ad un posto per la prossima Champions League. Gli stessi calciatori si divertono su Instagram nell'esorcizzare la tensione dei giorni precedenti alla gara. Ecco, infatti, il simpatico botta e risposta tra Alessio Romagnoli, difensore del Milan e Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, su Instagram, nel commentare una foto da Milanello del centrale di difesa milanista. Botta e risposta su Instagram tra Romagnoli e Pjanic, Instagram Romagnoli ti possono interessare anche, qui Milanello Romagnoli ha svolto l'intero allenamento in gruppo Milan, nuovo infortunio per conti, le ultime qui Milanello, buone notizie da Romagnoli e Calabria Bonucci e Romagnoli indispensabili, senza di loro la difesa soffre. Seguici su Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Telegram, scarica L e nostra app, iOS, Android.